Davvero contenta! Ci sarà la corsa delle lane! Vero, arancina? Sì! Io sono davvero contenta! Mi sono fatta questi bei boccoli per la gara! La mia rana si chiama Rosa, la tua giallina, vero? Sì, e vincerà la mia! No, la mia! No, la mia! La mia! La mia! Staremo a vedere! E chi vincerà? Chi vincerà? Oh! Chi vincerà? Lo sa il giudice! Comunque, io vado a allenare la mia rana! Rana, devi imparare a saltare bene! Vai! Vai, Rosa! Perché ogni passo puoi andare al traguardo! Tipo, sono il traguardo di quattro passi! Qua! 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 E quel traguardo! Capito? Quindi! Qua! 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 Brava! Ah, vedi? Chi sa come sarà cavando arancina! Rana, devi fare sempre... Giapolo della giallina! Giallina! Devi fare sempre... Altissimi! Incrociati! Caracara! 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 Ma... Devi essere velocissima! Così nessuno ti vedrà quanto ti conosci! Caracara! 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 Il giorno della gara? Benvenuti alla gara delle rane! Io sono la presidente... Eh, la presidentessa... Stavo dicendo... La presentatrice stellina! E questa è la mia gattina mia colina! Miau! Miau! E oggi giudicheremo chi sarà il vincitore! Se imbrogliate! Siete fritti? No, non imbrogliamo! Ok! Tra tre, due, uno... Via! Qua! 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 Finito! Qua! Mi... Ma il traguardo era qui, quindi si rifà! Qua! 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 Beh! Volete sapere? Tra poco ci sarà il momento della vincitrice! Vienite, ranocchie! Qua! 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 Ok, guarda! Allora... Tutte le dritte... Tutte le dritte... La vincitrice! E... Tutte e due! E... Tutte e due! Cosa? Eeeh! Tutte le dritte... Tutte le dritte... Tutte le dritte... Grazie.